Quello che vedete è un particolare microscopico del pannello del nuovo TV55G1 di LG Electronics, ovvero il nuovo TV OLED con tecnologia Evo che abbiamo testato. Il link all'articolo con misure molto approfondite lo trovate in descrizione. In questo video potete osservare la struttura microscopica dei pixel che sembra identica a quella dei pannelli della passata generazione. L'aspetto interessante che voglio mostrarvi è come viene modulata l'azione delle singole componenti bianca, blu, verde e rossa quando si riproduce una schermata bianca e modificando il bilanciamento del bianco da freddo a caldo e viceversa. In questo caso ho scelto un bilanciamento del bianco proprio della modalità standard ed eco che troviamo nelle impostazioni di fabbrica. Ogni pixel è composto da quattro diversi subpixel e questo succede per tutti i TV con pannello OLED prodotto da LG Electronics. Quando si tratta di riprodurre un elemento di immagine di colore bianco il subixel bianco è sempre acceso. Selezionando invece un bilanciamento del bianco più freddo, ma non freddissimo, attenzione, come in questo caso si accendono anche i subpixel blu e verde. Notate come in qualche zona troviamo accesi, seppur a bassissima intensità, anche i subpixel rossi. C'è anche qualche subpixel verde un po' più scuro, ma la maggior parte sono comunque a media luminanza. Questo invece è quello che succede quando si seleziona il bilanciamento del bianco più caldo e anche più vicino al riferimento delle coordinate cromatiche degli standard televisivi, cioè quello giusto. Il subpixel blu è spento adesso completamente e assieme al subpixel bianco si accendono a media potenza solo quelli del rosso e del verde. Ora torno di nuovo a quello più freddo e ora di nuovo a quello più caldo. Ora invece passo lentamente tra il bilanciamento del bianco caldo a quello più freddo o neutrale. Vedete, c'è un momento di passaggio, una posizione del controllo del bilanciamento del bianco in cui tutti e quattro i subpixel sono accesi contemporaneamente. Certo, il verde ha un alluminante molto bassa rispetto agli altri, ma è comunque acceso. Tornando verso un bilanciamento del bianco più caldo, il verde tende a salire di luminanza e invece il blu si spegne completamente. L'aspetto più interessante, almeno dal mio punto di vista, è la differenza di modulazione tra le varie zone dei subpixel sul pannello. Cioè, benché l'immagine che sto riproducendo è un bianco completamente uniforme, alcuni gruppi di subpixel hanno una composizione leggermente diversa tra le componenti rosso, verde e blu, come se fosse attivo uno schema con diter spaziale. Aumentando l'angolo di campo dell'inquadratura, lo schema di modulazione dei vari subpixel è più semplice da percepire. Vedete, in alcune zone si accendono di più quelli blu, in altre quelli verdi, e soprattutto nei punti dove si sceglie una temperatura colore intermedia tra quella calda e quella più neutra. Questo video, realizzato con la splendida camera microscopica di un Oppo Find X3 Pro, è solo a scopo didattico e per mostrare la struttura dei pixel del nuovo pannello montato su alcuni dei nuovi tv di LG Electronics e non ha assolutamente altre finalità.